Reso conto attività. Anche nel corso del 2021 l'impegno dei carabinieri forestali nella difesa degli ecosistemi naturali del territorio, del paesaggio della regione Piemonte è stato elevato. Sono stati condotti oltre 42.000 controlli delle 68 stazioni di carabinieri forestali dislocate nel territorio regionale. L'attività di prevenzione e contrasto alle violazioni in materia ambientale ha riguardato numerosi settori, tra i quali la tutela del territorio, la tutela flora e della fauna, l'attività investigativa sugli incendi boschivi e i controlli sulla gestione dei rifiuti. Al riguardo c'è da evidenziare come tale azione di contrasto deve mirare ad interventi tempestivi al fine di bloccare prima possibile fenomeni che possono provocare danni al territorio di notevole entità, che in molti casi non sono più ripristinabili. I controlli nel settore della tutela del territorio sono stati svolti con la finalità di reprimere reati commessi in danno all'assetto del territorio ed in particolare di aree sottoposte a precisi vincoli idrogeologico, forestale, paesaggistico, urbanistico edilizio, idraulico ed hanno riguardato gli illeciti edilizzi urbanistici, paesaggistici. In questo settore sono stati effettuati circa 23.487 controlli che hanno portato alla denuncia di 277 persone e all'elevazione di 442 sanzioni per un importo totale di 379.658 euro.